Io non so che cosa abbia detto Cantone, non sono partite che non mi appartengono perché il governo che deve decidere di nominare il commissario, noi abbiamo detto sempre in modo molto chiaro, determinata e ferma la nostra opinione, noi siamo contro una norma che è costituzionalmente illegittima, che spropria la città di Napoli dai suoi poteri, spropria la democrazia e contro l'amministrazione comunale, contro il Consiglio Comunale, contro i cittadini, e non è il fatto che venga nominata una persona autorevole, una persona per bene che cambia l'opinione, altrimenti noi faremo delle battaglie ad persona o contro qualcuno, quindi siamo contro e saremo anche contro la nomina di Cantone, al di là della persona con la quale poi c'è dialogo istituzionale, per quanto mi riguarda c'è anche amicizia, ma la politica, l'istituzione e la democrazia prescindono dalle persone.